Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha incontrato a Palazzo Trissino alcuni parlamentari vicentini invitati a sostenere Vicenza nel percorso di candidatura capitale della cultura 2024. Daniela Sbrollini, Maria Cristina Caretta, Silvia Covolo, Germano Rachella. Pier Antonio Zanettini impegnato oggi a Roma si è collegato da remoto. Assenti perché impegnati in altre attività Erika Stefani, Eric Fretto, Barbara Guidolin. A Palazzo Trissino erano presenti insieme al sindaco l'assessore alla cultura Simona Siotto, la presidente della commissione consigliare cultura Caterina Soprana, i consulenti di Nomisma incaricati dall'amministrazione di redigere il dossier di candidatura Marco Marcattili e Edoardo Demo. Dopo la presentazione del progetto i parlamentari hanno espresso in modo bipartisan la volontà di sostenere la candidatura. Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione di interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di Capitale Italiana per la Cultura anno 2024. 7 al nord, 7 al centro e 10 tra sud e isole. I progetti saranno sottoposti alla valutazione di una commissione di 7 esperti nella gestione dei beni culturali da cui giudizio dipenderà l'assegnazione dei finanziamenti destinati a eventi, mostre e manifestazioni d'arte e cultura organizzate durante l'anno di interesse. Per il Ministro alla Cultura Franceschini si tratta di una sfida che innesca meccanismi virtuosi, il contributo è di un milione di euro. Entro il 18 gennaio 2022 la commissione esaminerà le candidature e selezionerà i 10 progetti finalisti che saranno invitati alle audizioni pubbliche che si svolgeranno presso la sede del Ministero della Cultura entro il 1 marzo 2022. Queste le città in corsa, alla Trento, Aliano, Matera, Ascoli Piceno, Asolo, Treviso, Bulgio, Agrigento, Capistrano, Vibo, Valencia, Chioggia, Venezia, Cittadella, Padova, Conversano, Bari, Diamante, Cosenza, Gioia dei Marsi, L'Aquila, Grosseto, La Maddalena, Sassari, Mesagne, Brindisi, Pesaro, Urbino, Pordenone, Saluzzo, Cuneo, Sestri, Levanti, Genoa, Siracusa, Unione Comuni Montani, Amiata, Grossetana, Unione Comuni Pestum, Alto Cilento, Salerno, Viareggio, Lucca, Vicenza, Vinci e Firenze.